Le chiedo innanzitutto che settimana è stata, se è più condizionata dalla preoccupazione per gli infortunati o dall'ottimismo inevitabile dal volo di successo di Comorco e le chiedo cosa significa per lei poter finalmente lavorare con una cosa che non sarà più soggetta al rischio di eventuali partenze perché il mercato ha chiuso i battenti? È stata una settimana di concentrazione sulla partita del Perugia, che è una partita molto difficile. Io ho visto una squadra dal primo giorno molto mentalizzata per andare a lottare domani. Quella è la situazione dell'infortunio, alla fine è una situazione del calcio, io non ho guardato un'affettazione alla squadra. Dopo sul fatto di lavorare con tutta la squadra rosa, solo ricordare che la società ha attuato sempre con una razionalità splendida. A me sempre mi ha detto che non parteva nessuno, che la rosa era questa e questo si ha mantenuto fino alla fine. Per me come allenatore è molto importante perché mi piace molto il calcio di stabilità, il calcio razionale a livello aziendale, a livello delle squadre, a livello del messaggio che noi portiamo alla squadra e come andiamo avanti e la società ha stato dei 10 in questo senso. Faccio un appendice, scusa quello che ha detto il mio collega Luca, riporto alla settimana che è stata. Le chiedo, visto che comunque durante il campionato capiterà di lavorare poi, e la mia legge è successo, dopo una sconfitta o invece in questo caso dopo una vittoria. però si lavora sempre con la stessa testa, con una mitologia verso la partita che verrà, anche se alle spalle magari ci sono una dicotomia di risultati differenti, sconfitta e vittoria. Sì esatto, perché a me mi piace la mentalità della squadra di dimenticare la partita di prima perché non esiste di più. Tutto quello che si deve fare a Frosinone in quella partita si deve fare durante la partita. La squadra ha provato a fare lo meglio possibile, non è riuscito, dopo si analizza e si vede che si può fare meglio e si mette subito contro un'altra partita. Io non le metto più importanza della che ha. Noi prima di iniziare una partita ha un punto, allo stesso che l'altra squadra, quando inizia la partita ha un punto cada squadra e cada squadra bisogna lottare per prendere tre punti. Noi a Frosinone abbiamo perso il punto che avevamo prima di iniziare la partita che come si inizia la partita sempre in pareggio. E quella era la razionalità che una squadra ha bisogno perché quello fa crescere la mentalità. Per quello, se noi abbiamo messo quella concentrazione dopo Frosinone abbiamo fatto una cosa diversa, nel senso che ha una lezione importante per la squadra. La squadra ha capito che una sconfitta non deve avere una condizione sulla prossima partita. Questo è lo che la squadra ha mostrato lunedì perché è andato a fare un risultato ottimo a una squadra fortissima, a un campo difficilissimo, dove per esempio l'anno scorso il Brescia solo è riuscito a fare un punto di quello. È la stessa situazione adesso. quello si dimentica subito, lo che si ha fatto male si corregge e si prova a mettere tutto a posto per fare la stessa lotta per il risultato a Perugia, contro il Perugia. Io penso che questa razionalità e questo piede a terra, questa mentalità, alla fine la squadra cresce perché noi solo possiamo controllare quello che è controllabile. Il risultato non è controllabile per nessuno per modo che noi possiamo scrivere libri di quello, ma il risultato non lo controlla nessuno, l'episodio non lo controlla nessuno. Lo che noi controlliamo è la nostra risposta a tutti gli eventi di una partita, lo che noi controlliamo è la nostra risposta a capire che quella partita sia finita e che noi non pagiamo un prezzo, anzi, al contrario, prendiamo la lezione e andiamo avanti, tanto in una sconfitta, come in una vittoria, come in un pareggio. Perché l'unico che conta è essere disposto a reiniziare, a tornare avanti e alla fine della stagione vedere quanti punti ha fatto la squadra. Come giudica l'impatto degli ultimi arrivati? Come sto parlando di quelli che sono entrambi al secondo tempo Viviani, Benavi e Yaro che hanno fatto un po' di male? Io penso che hanno fatto un impatto positivo nella partita. Noi era una partita molto difficile contro una squadra con un calciatore di meno. Io, come non sono niente naif nel calcio, so che il fatto che una squadra va con uno in meno non garantizza che tu vinci la partita, perché anzi il Como ha fatto una meglio partita con uno in meno che con uno in più. Per noi è stato più difficile, ma penso che la idea di quelli che hanno entrato dopo, tanto Giallo perché è entrato prima a fare un lavoro, sì che il suo ruolo, perché in Terzino anche lui ha giocato a sinistra, il suo ruolo naturale è più a destra. Lui è entrato di lassa, è sacrificato per la squadra e penso che ha fatto bene in una partita completamente nuova, in un campionato nuovo, in un paese nuovo. Non è facile. Secondo gli altri che hanno entrato dopo, hanno entrato con la mentalità di dare alla squadra il calcio che noi avevamo bisogno di fare in quel momento e penso che hanno riuscito a farlo perfettamente. Noi abbiamo riuscito a portare il Como a attaccare un po' la nostra rigore solo alla fine. Questo l'hanno fatto con un controllo della pala, con un gioco, con una stabilità. nella nostra fase offensiva per andare a difendere lo meno possibile. Alla fine la nostra squadra ha fatto 24 tiri in gol, a gol abbiamo fatto 9 tiri in porta. Possiamo, l'unica cosa che io prendo come negativa è il fatto che noi non possiamo, abbiamo avuto la situazione per segnare il secondo gol e girare un po' di più la partita. Non si ha lavorato questa settimana per capirlo e per andare meglio, ma hai bisogno sempre di tempo perché la squadra integri questo e nel suo modo di giocare. Ma dopo la squadra ha fatto tante cose positive perché abbiamo controllato bene l'attacco di Como, noi abbiamo andato in situazione di sofferenza dove l'anno scorso per esempio Cerri ha segnato due volte, questo la squadra ha difeso bene, ha giocato con concentrazione, abbiamo giocato sul nostro punto forti, sapevamo che dobbiamo evitare il nostro punto deboli e alla fine la squadra ha saputo stare nella partita. Dopo l'episodio è andato per noi, un po' per mentalità e qualche volta di fortuna che si deve avere nel calcio, questo è evidente, ma questa fortuna possiamo dire che è stata sfortuna in tutta la situazione di gol che abbiamo creato, che noi dobbiamo aver segnato prima, ma io ho visto un Brescia che mi è piaciuto, che ha avuto atteggiamento, ha avuto mentalità, ha avuto calcio, ha avuto voglia di andare avanti. Io ricordo l'ultimo minuto della partita, noi abbiamo finito la partita attaccandolo e questo per me significa tanto, soprattutto a lungo termine. Buongiorno mister, il Perugia ha cambiato tanto, sia in panchina che in campo, però come DNA è una squadra che mette in difficoltà gli avversari, soprattutto a centro campo. Hai preparato in maniera particolare la partita a centro campo oppure giocheremo a nostro modo e poi qualche cosa sarà? A me piace che la nostra squadra giochi sempre con le identità tutte le partite. Noi facciamo piccoli aggiustamenti perché conosciamo l'avversario. Sappiamo che il Perugia è una squadra che fisicamente è molto intensa, che è forte, che è molto pericolosa in ripartenza, è molto pericolosa in situazioni di cross, è molto pericolosa sulla situazione di fascia e dopo su un reparto nel centro campo dove loro sono forti. penso che è una squadra che ha meritato più punti del che in questo momento ha, per lo tanto io lo califico come per noi è una mentalità un po' di scontro diretto. Noi dobbiamo fare con la nostra identità, con i piccoli aggiustamenti che hanno bisogno, perché nel calcio di oggi hanno bisogno, ma alla fine noi dobbiamo sempre capire che con una squadra giovani deve lavorare sulla propria identità, sulla propria mentalità e fare piccoli aggiustamenti. Non diventare mato perché cada settimana gioco contro uno diverso e noi oggi facciamo una roba e domani facciamo l'altra pensando all'avversario. quello, come tutto nella vita, penso che è il punto giusto. Vieni, faccio tre di una posizione. L'altra volta. Allora, la prima è quante possibilità ci sono che Mangraviti recuperi, che addirittura giochi dal titolare se 0-4-1. La seconda, dopo una prestazione così, la vuoi com'erita, la riconfermo, sta pensando nei piani. E poi la terza, se benagli, è pronto per giocare per la traduzione. Mangraviti ha preso una vota, penso che ha fatto una buona azione di gioco. Lui che si ha fatto male ha preso una munizione che ancora non ho capito, perché è arrivato prima, è arrivato bene, ma alla fine questo è il calcio. Lui ha preso una vota, ha recuperato bene e è a disposizione. La seconda qual'era? La Voico. La Voico ha fatto una partita per me eccezionale. Ha completo a mezzo alla sua testa al 100% del suo ruolo. Ha stato capitale in gran parte della partita. Ha capito perfettamente il suo ruolo e ha fatto una bellissima prestazione. su Viviani e Venali hanno cresciuto tantissimo in quanto, perché adesso fanno una settimana che sono con noi. Per il nostro modo di giocare tutti i calciatori sono importanti, soprattutto quelli che hanno un po' di esperienza, sono ancora più importanti, perché vengono aiutare i giovani e vengono a fare una differenza. Io l'ho visto allo due in crescita a livello fisico, in crescita in capire l'identità della squadra e lavorare. e poco a poco sono in disposizione di aiutare più e più di più. Ma non voglio rischiare di fare giocare un calciatore prima che sono sicuro che fisicamente è al suo meglio livello. Sono molto vicino, ma sono molto vicino. Ha lavorato molto bene e cada volta sono più vicino ad arrivare al suo livello. Le chiedo un altro singolo dopo, quello che ha chiesto Luca. Galazzi, che è stata un po' la sorpresa della scorsa partita con il Como. Non le chiedo se si aspettava una prestazione del genere, perché altrimenti non l'avrebbe fatto giocare dal primo minuto. Ma le chiedo secondo me è una cosa importante che si è iniziato molto bene, poi ha fatto un errore, ma poi si è ripreso immediatamente, cioè si è visto che nonostante sia anche molto giovane, mentalmente rimasto nella partita. E poi è stato un crescendo questo giocatore. Sì, un Galazzi è stato un calciatore che è arrivato nuovo all'inizio con noi, che all'inizio è stato un po' di shock per il nostro modo di lavorare. Noi abbiamo messo a Galazzi sotto pressione mentale, precisamente per quello. Lui sempre ha riuscito ad alzare la sua sticella e lui ha meritato l'altro giorno di giocare all'inizio. Io ero sicuro che faremo una buona partita, come tutto, perché alla fine sempre aspetto il massimo di tutti, di forma positiva. Lui tutto lo che ha fatto e il fatto che è stato titolare se lo ha meritato lui e se lo ha guadagnato lui con il suo lavoro. Noi l'hiamo messo in un lavoro di squadra, in una mentalità di sempre andare di più, sempre andare di più. E questo è lo che lui ha dimostrato che può fare, lo che stanno distruttando un po' tutti. È vero che Galazzi ha avuto l'atteggiamento e la mentalità e il calcio di farlo subito. Qualche altro può tardare un po' di più, ma come lui io sono contento di tutta la squadra che tutti lo fanno. non questo. Grazie. Posso chiedere un'ultima cosa riguardo agli infortuni muscolari? Sono un po' sosseguiti, mi ha detto là. È soltanto una coincidenza o invece magari ci raffiarebbe una cosa che fa? No, no. Alla fine tanti hanno successo per colpa di una volta presa il trauma di partita. Qualche altro è un po' di... Noi lavoriamo a un'intensità altissima dove il calciatore sempre deve imparare a lavorare sempre al filo di tutto perché questo è il calcio modello. Se il calciatore non va forte, va piano, non si infortuna mai. Ma dopo non arriva a nessuna parte. Alla fine io faccio una lettura molto di più sul trauma di partita perché alla fine è lo che le ha passato a Ndoy, lo che le ha passato a... che aveva questo... a Vandeloy. Solo di tutto quello, no? E sono roba un po' normale, no? Per me. Ndoy come sta? Ndoy penso che oggi ha fatto un bel lavoro e io sono ottimista che la prossima settimana può iniziare a lavorare con la squadra. Ndoy ha preso una vota fortissima, ha avuto la fortuna che questa vota non l'ha provocato di più di quello che poteva aver provocato ma adesso abbiamo riuscito a fare una pulizia di tutta questa volta e io penso che lui può iniziare la settimana prossima. Grazie. 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 Grazie.